Ciao a tutti ragazzi, sono vero il nuovo attore Oggi sono uscita e ho preso i pacchetti In diverse edicola Questo l'ho preso da Luigi e Andrea E questo l'ho preso in Brigny Cominciamo a aprire questo No, e poi ho questo che ho comprato in Brigny Della rivista che c'è Federic Cominciamo a aprire questo Allora, allora, allora Allora, allora 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 e l'asso di mamma da l'asso di mamma da l'asso di mamma da questo non ci vediamo mamma ho visto un ufo mamma da l'asso di mamma da l'asso di mamma buon profumo con le nuove ragazzi e dov'è oh vedete ricco vedete 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 sono digetto 50 anni e fisichetto ta 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 e pranzetto per il digetto 50 anni ta 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 Non, 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 non No, 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 no Sì, sì, sì. no 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 e e e e come wow 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 Sì Ma sui mani e la marmellata ragazzi Mamma mia non riusciva più a aprire il pacchetto Fa anche schifo qui pensate Ma anche una Una cosa carina Ma non riusciva più a aprire il pacchetto 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 E' un po' di mamma Ma non riusciva più a aprire il pacchetto 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 No, 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 no. Sì non troppo quasi nessuna verga lo spiro no 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 e trovate davvero ragazzi cazzo un pochettino così ma è mio e lo gestisco io e lo gestisco io e lo gestisco 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 se la 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 Non è giù in mano look at that look at that look at that move ah due pacchettini piccoli di tre carte però ma che cos'è oggi poi ti dava la rivestina del camolfiore del camolfiore la due pacchettini piccoli ragazzi però da tre e troverai bu carte non non trovi ovviamente la v ok noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao